intanto parliamo della conducibilità idraulica a saturazione la conducibilità idraulica a saturazione è anch'essa una cosa che noi definiamo alla scala di Darcy e quindi il nostro punto materiale è molto grande abbiamo visto la volta scorsa anche che la conducibilità idraulica che si misura in metri al secondo è uguale alle proprietà del mezzo diviso se vogliamo così dire le proprietà del fluido dove le proprietà del mezzo vengono descritte dalla permeabilità intrinseca che si misura in metri quadri e le proprietà del fluido vengono descritte da quella che si chiama viscosità cinematica e in particolare K grande uguale a K piccolo diviso Ni. Come vedete qui abbiamo una tabella di conducibilità idrauliche queste conducibilità idrauliche vanno da 10 alla meno 14 metri al secondo e forse non vi rendete conto di quanto piccolo è 10 alla meno 14 fino a 10 alla meno 2 metri al secondo 10 meno 2 metri al secondo significa un centimetro al secondo 10 alla meno 14 metri al secondo significa che l'acqua mediamente si muove meno di un atomo in un secondo cioè che significa dire che praticamente l'acqua è ferma questi valori si ottengono per rocce questi valori molto piccoli per valori per rocce cristalline come potrebbe essere un granito non fratturato il poi e queste sono le rocce che sono meno conducibili e come facciamo a calcolare la conducibilità idraulica prendiamo un pezzo di roccia applichiamo un carico unitario comunque un carico controllato in laboratorio vediamo quando l'acqua arriva dall'altra parte quando passa quando percorre una certa quantità un certo spazio da questo punto risaliamo la conducibilità idraulica oppure sui suoli possiamo fare anche delle prove in campo con permeametri vari altre situazioni vari altri strumenti e poi vedete in basso in questo questo grafico sono rappresentati altri tipi di rocce come shell sandstone che sarebbero rocce sabbiose quindi carbonati rocce ancora cristalline come per esempio i graniti però fratturate in cui e in cui la conducibilità idraulica non è dettata tanto dal dei pori della roccia di che anche poco porosa attorno allo 0 5 per le rocce sono anche poco porose rispetto per esempio al ai suoli che abbiamo detto avere una porosità compresa fra 0 304 le rocce cristalline possono avere anche una porosità dello 0 0 4 0 0 5 cioè 10 volte meno porose poi appunto basalti e depositi alluvionati ma in questo caso carst in questo caso sono in realtà rocce carsiche quindi carbonati e rocce carbonati che in che sono che presentano delle aperture molto grandi qui la velocità è dell'ordine di 10 meno 2 metri al secondo ma in realtà voi sapete che ne rocce soggette al carsismo si possono formare dei cunicoli anche di dimensioni macroscopiche quindi lì non si tratta più di moto di filtrazione ma il vero e proprio moto a superficie libera viceversa possiamo vedere come varino le conducibilità idrauliche in argille limi e sabbie le sabbie abbiamo velocità anche dell'ordine di un centimetro al secondo nelle argille abbiamo velocità dell'ordine di 10 alla meno 14 10 alla meno 12 metri al secondo ragione per cui vi sono praticamente quasi 7 8 ordini di grandezza di velocità di differenza fra una fra una sabbia e un argilla e questo fa dire che le argille sono praticamente dei mezzi impermeabili quando vi facevo l'esempio degli acquiferi alcuni giorni fa vi avevo detto beh ci sono delle lenti e di argilla e quindi c'è la formazione di una serie di acquiferi sovrapposti perché possiamo considerare le lenti di argilla come degli acquitardi cioè delle delle aree in cui praticamente l'acqua non si muove non che non siano saturi ma che che dove l'acqua rimane praticamente ferma questo dunque è un ritratto della conducibilità idraulica saturazione e ha a che fare con la legge di darcy quando io ho so di avere per esempio una silty sand una sabbia limosa so che la sua conducibilità idraulica è compresa fra 10 alla meno 7 10 alla meno 3 metri al secondo che però tra 10 alla meno 7 10 alla meno 3 metri al secondo non è che possa fare tante previsioni perché è ovvio 3 4 ordini di grandezza di velocità differenti solo dal tipo testurale dovrò recuperare delle altre indicazioni se vogliono fare dei calcoli più precisi e la conducibilità idraulica peraltro do come la definisco ho detto prendo un campione beh non così un po più grande più grande della scala di darcy ma per esempio nelle rocce cristalline può essere anche un campione più piccolo ma in un suolo potrebbe essere un campione di queste dimensioni qua e faccio delle prove di infiltrazione attraverso le quali misuro misura la conducibilità idraulica tuttavia noi abbiamo dobbiamo trattare il problema dell'infiltrazione non solo alla scala del mio campione di laboratorio ma anche alla scala a scale molto più grandi per esempio alle scale dell'intera valle dell'adige perché io posso essere interessato per esempio a queste scale perché gli acquiferi si hanno queste dimensioni si muovono su queste scale e io ho bisogno degli acquiferi per esempio per pompare dell'acqua per berla allora devo anche avere un'idea di che cosa succede non solo di come posso misurare la conducibilità idraulica in questi acquiferi questo questa slide riproduce una una riproduce una cosa molto un esperimento molto noto in una qui in in un luogo di un di in cui c'era della sabbia grosso modo della sabbia limosa e quello che riporta è delle grandissime linee di livello che vedete lì cosa sono queste linee di livello sono la log conduttività idraulica cioè sono valori del logaritmo della conduttività idraulica e come vedete variano molto anche in un acquifero omogeneo come questo del border in sight che vedete qui questo pone una serie di problemi perché dunque intanto devo abituarmi all'idea che la conducibilità idraulica non è uniforme spazialmente ma è molto variabile anche in un mezzo che apparentemente sulla superficie dal punto di vista della tessitura è omogeneo e quindi devo dovrò poi escogitare delle tecniche per tenere conto di questa variabilità che nella maggior parte dei casi poi rimane un aspetto non conosciuto perché io non è che posso fare delle misure come è stato fatto al border in sight dove c'erano 100 punti di misura da cui queste queste variazioni ho a disposizione solo una misura complessiva e collettiva quindi ho eterogeneità a questa scala che sono qui sono 20 metri vedete su 20 metri una variabilità fortissima e naturalmente ho eterogeneità anche alle scale intermedie per esempio in questo caso io ho una valle in cui ho diverse diversi tipi di tolodici una diversa storia geologica e quale sarà la conducibilità idraulica di questi elementi sarà ovviamente variata in tutte le direzioni tenendo conto anche sulla verticale le direzioni qui sono sempre molto espanse gli strati orizzontali sono sempre molto piccoli e quindi c'ho una varietà di conducibilità idraulica anche su elementi orizzontali magari di spessore limitato che però alla fine sono determinati nel trasporto delle acque questa è un'altra vista di un altro elemento in questo caso fluviale in cui all'interno ho nel suolo conducibilità idraulica e saturazione assolutamente diverso ho una scala regionale come questa che è molto simile a quella che vi avevo già mostrato all'inizio come vedete c'è una struttura geologica molto complessa certamente la conducibilità idraulica varia anche attraverso queste parti geologiche diverse alle scale diverse nella sostanza devo far riferimento a strumenti di misura diversi in particolare le piccole scale qui vedete riportati in metri posso fare dei campioni cores sono campione o dei buchi logs se vado su scale un po più grandi da 1 a 10 metri quello che devo fare per misurare è usare degli strumenti geofisici in particolare dei particolari radar che mi consentono di valutare il movimento dell'acqua e quindi risalire poi alle valori della conducibilità idraulica per scale più grandi c'è tutta una serie di altri esperimenti in particolare posso fare dei test sismici in cui nella sostanza faccio scoppiare delle cariche poi misurano l'effetto delle cariche la propagazione del suono generato attraverso il mio sistema e da questo risalgo alle proprietà idrauliche oppure fare quelli che si chiamano well test sulle scale più grandi che sono test di pompaggio in cui vado effettuando opportuni test in cui scavo un pozzo metto nel pozzo una pompa faccio pompo l'acqua pompando l'acqua deprimo il l'acquifero che sto pompando e ne deduco le proprietà idrauliche che saranno tuttavia proprietà idrauliche mediate quindi man mano che vado da una scala all'altra anche a causa delle eterogeneità non avrò la conducibilità idraulica puntuale ma avrò una conducibilità idraulica efficace che è la media del tipo di suolo o di acquifero che incontro nel sottosuolo quindi la conducibilità idraulica anche a saturazione è in genere una proprietà uno difficile da misurare due molto variabile terzo che è data in funzione di un certo volume di controllo e rappresenta generalmente delle proprietà medie di cui le misure puntuali possono scostrarsi anche a volte di ordine di grandezza grazie grazie grazie